Un detenuto ha tentato una rocambolesca evasione dalla carcere pescarese di San Donato con dinamiche. Ancora da chiarire, lo rende noto l'Unione Sindacati Polizia Penitenziaria, che spiega come sia stata evitata l'evasione grazie all'immediato allarme dato via radio dal collega che lo ha visto fuggire verso il muro di Cinta, dove sono accorsi immediatamente due poliziotti riuscendo a bloccarlo. Siamo costretti a ribadire le criticità di questo istituto, si legge in una nota che come da noi più volte evidenziato è stato lasciato nel più totale abbandono sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista organico. I problemi iniziano da lontano, continuano i sindacati, dalla decisione delle chiusure degli ospedali psichiatrici giudiziari senza programmare prima l'apertura di un numero adeguato delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, le cosiddette REMS. È impensabile che nel 2024, prosegue la nota di USPP Abruzzo, all'interno degli istituti italiani si continui a gestire detenuti comuni insieme a soggetti con problemi di natura psichiatrica così come soggetti in gravi condizioni di tossicodipendenza specie, quando i numeri di sovraffollamento raggiungono, come a Pescara, oltre il 150%, con carenza organica di oltre il 40%, un muro di cinta che risulta essere il più basso d'Italia, continui avvicendamenti nella figura di direttore d'istituto e attualmente l'assenza di un comandante titolare. Gli eventi critici ormai sono quotidiani e provocano, nelle esigue unità di personali disponibili, una situazione costante di stress correlata alle precarie condizioni lavorative.